Un itinerario artistico, culturale e paesaggistico tra capolavori unici di Piero della Francesca, Bartolomeo della Gatta, Donatello e altri grandi maestri del Rinascimento. Il progetto Rinascimento in Valtiberina e Valdichiana è stato siglato dai comuni di Sansepolcro, Castiglionfiorentino, Citerna e Monterchi. Un itinerario di poco più di 40 km da percorrere in un contesto paesaggistico incantevole, arricchito da una straordinaria offerta enogastronomica. Una vera mostra permanente e diffusa di capolavori dell'arte, frutto della propensione a produrre bellezza e della capacità di conservarla di un intero territorio. L'obiettivo è realizzare un sistema di comunicazione e promozione, creare strumenti digitali con contenuti originali e in doppia lingua, italiano e inglese, come un portale web dedicato, una campagna fotografica e un virtual tour aereo per l'intera area. Il progetto prevede anche la produzione di eventi significativi, il primo sarà il prossimo 26 di aprile a Sansepolcro, un alezio magistralis a cura del critico d'arte Vittorio Sgarbi tra i sostenitori del progetto.